Nel schermo di castello, nel quarto piano, nel quarto piano sono otto lampi di caldo, senza ascensore naturalmente. Con le scarpe, con le scarpe, con la salita un pochettino, la licezza non è fatto, ma la salita. Con le scarpe, dove avviva l'acqua? Al Moser. C'è il Moser. Sì, c'era lì. Lama e le tagliette, le tagliette, l'arid dingle verde, in Zumal e il forte. E quindi sto veramente dando il genauso. L'arma con un'incensione in questo modo a farla creato il nostro quattro piano, aircraft della acqua, e la UN Malmo, e il nostro modo stateposte 감�ibile motivation in modernismo. Come став kaz Kanngata...